Oggi ci troviamo a Livorno Ferraris in provincia di Vercelli e ben ritornati nella nostra rubrica di assistenza tecnica dove io vi voglio dare consigli pratici per poter utilizzare al meglio le linee tecniche Corteva. Oggi ci troviamo in una azienda molto grande e un'azienda che semina parte della superficie nasciutta e parte della superficie in acqua. Vi voglio far vedere oggi un campo tipico per il trattamento di presemina con la nostra linea. Sono gli ultimi giorni che permettono di utilizzare per poter utilizzare al meglio la nostra linea tecnica prima di seminare il nostro riso in acqua e vi voglio far vedere appunto come si presenta oggi il campo. Infestanti abbiamo del giavone a un culmo di accestimento, giavone molto piccolo in fase di crescita, due o tre foglioline come potete vedere appunto molto grande e molto piccolo quindi una situazione abbastanza mista. Qui è stato preparato il terreno ed è stato lasciato diciamo crescere, ci sono state lasciate crescere tutte le infestanti, abbiamo della bidens molto sviluppata, abbiamo della portulaca, abbiamo sempre del giavone, del crodo e delle infestanti molto piccoli in fase di crescita. Qui come potete vedere c'è del ciperus di formis, adesso ve lo faccio vedere meglio, questo è ciperus di formis, dell'eterantera molto piccola, molto piccolina che è in fase praticamente di germinazione. Ecco questa è la situazione ideale per poter utilizzare la nostra linea tecnica di presemina. C'è del poligono e lo vedete lì in quadro e oggi qua noi potremmo consigliare un intervento con Exocet a 0,75 litri per ettaro, Codasai da 1,25 litri per ettaro, dei glifosate a 4 litri per ettaro e del Loyant 1.2 litri per ettaro per andare a controllare appunto le infestanti che abbiamo visto prima, quindi il ciperus, l'eterantera che glifosate non controllerebbe. Vi ricordo che per poter utilizzare al meglio la linea tecnica di presemina, quindi di falsa semina in risaia, il terreno deve essere completamente sgrondato. Questa è la situazione ideale. Oggi ci troviamo dopo i forti temporali della scorsa notte, il terreno si presenta asciutto ed è perfettamente e in questo caso si può perfettamente utilizzare la nostra linea tecnica. Vi facciamo vedere nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, il risultato di questa linea. Grazie mille, buona giornata.